Si congela il campionato della Fiorentina e non è una metafora. Sì, perché letteralmente parlando i Viola non hanno potuto giocare causa gelo e neve che hanno colpito tutta l'Italia, compresa Pescara, all'ultima gara del girone di andata contro gli abruzzesi di Massimo Oddo, chiudendo così la prima metà di campionato con 27 punti racimolati in 18 partite, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Un andamento uguale ad ora all'ultimo anno di Vincenzo Montella alla guida dei Giliati, quando nella stagione 2014-2015 l'attuale tecnico del Milan portò i Viola ad occupare il quarto posto a fine campionato. Certo, allora la Viola si svegliò soprattutto nella seconda parte di stagione, quando a gennaio in Toscana arrivò un certo Mohamed Salah a risollevare le sorti dei Giliati, ma quello che emerge ad ora è soprattutto la voglia di questa Fiorentina di scalare più posizioni possibili in classifica, anche perché il nono posto, occupato al momento, non è un bilancio soddisfacente per una piazza ambiziosa come Firenze. Fiorentina, che per ora inoltre è stata anche sfortunata e dopo il rinvio della partita contro il Genoa nella terza giornata e la sospensione per 30 minuti di quella con il Crotone, che portò al brutto pareggio interno contro i Calabresi nella decima uscita stagionale in Serie A, per i Viola è arrivato anche il gelo post Befana ad ostacolare una possibile nuova ripresa positiva in questo nuovo anno. Partita rinviata infatti in quel di Pescara, partita per la quale comunque c'è già una nuova data, ovvero mercoledì 1 febbraio, con la Fiorentina che in quanto a statistiche comunque non parte sicuramente favorita. Già, perché nei recuperi delle 5 gare degli ultimi 10 anni, rinviate per neve, i Gigliati hanno quasi sempre perso, due volte fuori casa a Bologna nel 2012 e nel 2013, una volta in casa contro il Milan per 2 a 1 nel 2009, ed hanno vinto solamente una volta contro il Bologna in esterna sempre nel 2009, pareggiandone invece una per 2 a 2, sempre fuori casa contro il Parma nel 2012. Un mito da sfatare allora per la squadra di mister Paolo Sosa, che intanto è già a lavoro, per il prossimo impegno di domenica, quando al Franchi, nella prima giornata del girone di ritorno, arriverà un mostro a tre teste, chiamato Juventus. Rimandato l'impegno di Pescara, la Fiorentina tornerà a giocare in campionato il prossimo fine settimana, quando dovrà fronteggiare la rivale di sempre, quella Juventus, che in Serie A non perde dallo scorso 27 novembre. Intanto alle porte si profila l'importante gara di Coppa Italia contro il Chievo in programma per mercoledì. Una settimana di partite cruciali per la stagione della Fiorentina dunque, ma la sensazione è che cruciali saranno anche le operazioni di mercato che si svilupperanno nei prossimi sette giorni. Il fronte più caldo da seguire, ovviamente, è quello legato a Nikola Kalinic. Il centro avanti croato è di fronte al BVO professionale più grande della sua carriera. I cinesi del Tianjin, Kuanjian, lo vogliono fortemente ed hanno giocato a rialzo, sin dalle fasi iniziali della trattativa, confermando una volta di più le infinite possibilità economiche dei club cinesi. L'attaccante della Fiorentina, che in un primo momento aveva espresso alcune perplessità a trasferirsi nel poco competitivo campionato cinese, adesso vacilla. L'offerta del club allenato da Fabio Cannavaro è infatti divenuta ancora più faraonica, con i cinesi che avrebbero addirittura portato la proposta d'ingaggio a 15 milioni a stagione. Per Kalinic sarebbe un quadriennale da 60 milioni in grado di cambiare la sua vita, ma allo stesso tempo anche un probabile addio ai sogni di Premier, campionato in cui Kalinic avrebbe preferito trasferirsi. Nelle prossime ore, seppur combattuto, l'ex Dnipro dovrà dare una risposta al Tianjin e anche la Fiorentina, che in caso di sua partenza punterà verosimilmente su di una risorsa interna come Babacar, ma potrebbe anche essere costretta a cercare un'altra pedina per il suo reparto offensivo. Spettatore preoccupato di questa trattativa è ovviamente mister Paolo Sosa. Per l'allenatore portoghese Kalinic è molto più dell'attaccante titolare, è il manifesto ideologico del suo calcio e ovviamente vorrebbe tenerlo ancora in viola. Nel caso comunque Kalinic dovesse partire, la Fiorentina incasserà intorno ai 50 milioni di euro, che dovrebbero garantire a Sosa almeno un sostituto. I nomi sono ancora quelli di Zaza, corteggiato da Valencia e Villareal, e che la Juventus vorrebbe cedere in prestito con riscatto obbligatorio a quota 20 milioni, Muriel, ritenuto però incedibile da Ferrero, e Gabbiadini, con il Napoli che ha fissato il prezzo per il suo attaccante di riserva a 20 milioni. Intanto ci sono aggiornamenti anche per altre trattative, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo la provincia, Hernan Toledo è a un passo dalla Spalmas, con la Fiorentina che avrebbe già trovato l'accordo per interrompere il prestito biennale. Appuntamento in programma poi tra la Fiorentina e il Barcellona per discutere di Cristian Teglio. Per lo spagnolo si è registrato in passato l'interesse del Marsiglia, che aveva chiesto informazioni, e ora potrebbe tornare a bussare alla porta dei Viola. Grazie a tutti!